L'assessorato alle politiche giovanili del comune di Mascali, retto da Alberto Cardillo, ha reso noto attraverso un comunicato stampa che fino alla mezzanotte di oggi sarà possibile inviare le richieste di partecipazione ai tirocini extracurricolari finanziati dalla regione siciliana, occasione di formazione ma anche di guadagno mensile. Attraverso la pubblicazione dell'avviso 22 2018, il Dipartimento regionale del lavoro ha reso nota l'attivazione di questi tirocini grazie a un fondo per il finanziamento di tirocini extracurriculari della durata di sei mesi in vari settori con un'indennità pari a 500 euro mensili. Il tirocino potrà durare fino a 12 mesi per i disabili o soggetti svantaggiati. Potrà partecipare al bando chiunque sia domiciliato o residente in Sicilia da almeno sei mesi, abbia assolto l'obbligo di istruzione e appartenga ad una delle categorie previste. Giovani tra i 16 e i 35 anni disoccupati inattivi e in cerca di prima occupazione con i sei non superiore a 30.000 euro. Adulti tra i 36 e i 66 anni disoccupati inattivi e in cerca di prima occupazione con i sei non superiore a 30.000 euro. E disabili o svantaggiati con un'invalidità superiore al 46% tra i 16 e i 66 anni compiuti. Per questi ultimi non occorre la dichiarazione ISEE ma soltanto la certificazione di invalidità. La domanda dovrà pervenire entro la mezzanotte di oggi, martedì 10 luglio, solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma web tirocini.ciapiweb.org. Ci si potrà rivolgere anche ai patronati CAF del territorio per ricevere assistenza nella compilazione delle domande. Sono esclusi coloro che hanno già usufrito di tirocini extracurriculari attivati con garanzia giovani, oppure risultano iscritti ad albi o ordini professionali e chiedono tirocini o per il medesimo ordine, o sono coinvolti in misure di politiche attive. I requisiti devono essere chiaramente posseduti alla data di presentazione della domanda. I beneficiari, oltre alla domanda, dovranno allegare ad essa documento di identità in corso di validità, certificazione relativa all'ISEE, eventuale certificazione attestante condizioni di disabilità o appartenenza alle categorie di vantaggio. Tutte le informazioni e gli atti sono disponibili presso il sito della Regione siciliana, nella sezione relativa all'assessorato, famiglia, politiche sociali e lavoro, dove si potrà visionare anche un video esplicativo con le modalità di presentazione della domanda di partecipazione per i tirocini extracurriculari. Ultimo giorno, dunque, per poter approfittare di un'autentica occasione, utile soprattutto alla formazione personale.